A Tussiche e Vales il 27enne belga Youssef Zaki è sbarcato sul palco lanciandosi in una magistrale interpretazione del celebre brano, Say Something, performance struggente e coinvolgente, che ha convinto tutti, pubblico e giurati, per il giovanotto, che parla benissimo l'italiano, avendo vissuto nel bel paese dalla terza elementare fino alla terza media. C'è stato il parere favorevole di tutti e quattro i giudici. Non solo. Dalla giuria popolare è arrivato un 100% tondo tono. La parola è quindi ripassata a Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Come da regolamento, se tutti e quattro si fossero alzati e avessero raggiunto il ragazzo al centro della scena, questo avrebbe staccato anticipatamente il pass per la finale. Zerbi però è rimasto inchiodato sulla sua sedia. Una scelta che ha diviso i telespettatori. Zaki. Che in Belgio. A Bruxelles. Si guadagna da vivere facendo l'impiegato e il cantante da strada. Quando ha visto il 100% della giuria popolare e Gerry. Maria e Mammuca rialzarsi è scoppiato in lacrime. Credendo di avercela fatta e di avere in tasca il biglietto per la finale. Non aveva però fatto i conti. Rudy mi ha detto che non si sarebbe alzato ha spiegato Maria al giovane. Ma c'è un perché. Ti ho visto piangere allora ti volevo dire questa cosa. Se Rudy si fosse alzato tu saresti andato in finale. Lui però vuole darti la possibilità di riesibirti un'altra volta e affidarti un pezzo. A questo punto ha preso la parola lo stesso Zerbi. Credo che a te piaccia conquistare le cose che tu provi piacere a esibirti. Per me tu sarai felice di ricantare e conquistarti la finale. Ho in mente una canzone che esalti le tue capacità e te la indicherò tra non molto. Grazie a tutti.